Anticipazioni l'isola dei famosi 3 a 100 circonflesso puntata, doppie squalifiche e nuovi ingressi. L'isola dei famosi 2018 terza puntata anticipazioni, doppie squalifiche e nuovi concorrenti. Cresce l'attesa per la terza puntata indiretta dell'isola dei famosi 2018 che andrà in onda il prossimo lunedì 5 febbraio su Canale 5, le anticipazioni ufficiali rivelano che sarà questa una puntata in cui ci saranno un bel po' di colpi di scena, che lasceranno senza parole gli spettatori da casa. In primis bisognerà fare chiarezza sullo scandalo droga, che in questi giorni ha investito il reality show scatenando non poche polemiche. Cosa succederà a lunedì in diretta? Ci saranno delle squalifiche in media? Doppia squalifica nella terza puntata dell'isola dei famosi 2018. Le anticipazioni sull'isola dei famosi 2018 rivelano, che finalmente verrà svelata la verità su Francesco Monte dopo che il concorrente è stato accusato da Eva Enger di aver fumato marijuana in Honduras e quindi di aver portato la droga all'insaputa della produzione. Un colpo di scena clamoroso, che ha scatenato accesi dibattiti al punto che in molti hanno chiesto di procedere con la squalifica immediata di Francesco Monte dal reality show Mediaset, in quanto ritengono che abbia violato le regole della trasmissione, che vieta severamente ai concorrenti in gara di portare droghe e altre sostanze stupefacenti. Ma in attesa della diretta della terza puntata dell'isola dei famosi ecco che in queste ore su Dago Spia sono state svelate le primissime anticipazioni su quello che potrebbe succedere lunedì sera su Canale 5. Nel dettaglio, infatti, si vocifera che potrebbero essere due i concorrenti Vipa dover abbandonare il cast delle reality show di Alessia Marcuzzi. Nuovi concorrenti in gara all'isola dei famosi? Non solo Francesco Monte potrebbe fare le valigie e sloggiare definitivamente dal cast dell'isola dei famosi ma anche Nadia Rinaldi, la quale potrebbe essere coinvolta in questo scandalo droga di cui oggi si parlerà a lungo anche nel corso della diretta di Domenica Live in onda su Canale 5 con Barbara D'Urso. Ma le sorprese non finiscono qui, le anticipazioni sulla terza puntata dell'isola del 5 febbraio, infatti, rivelano che dovrebbero esserci anche delle new entry, che faranno parte del cast di questa fortunata tredicesima edizione. Ancora tap-secret i nomi in questione, che dovrebbero essere svelati in diretta lunedì sera, inoltre vi anticipiamo che in studio nella terza puntata dovrebbe esserci anche Raz The Gun, il vincitore della scorsa edizione, che potrebbe diventare il terzo opinionista. Grazie per la visione!